ola 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 io sono max dei berrofronzo benvenuti a un nuovo episodio della serie dedicata a due list anche oggi forse ci fa compagnia la patata no no buongiorno allora prima di questa cosa probabilmente la metto come bonus track alla fine c'è stata buongiorno ho fatto l'introduzione e ho cercato la patata che non c'era perché per qualche motivo si era discollegata da ts disconnessa e scollegata quindi e quindi sono rimasto ecco la pata e si sentiva il rumore di grilli fatta fatta è morta bene esattamente bravissima training grounds dobbiamo fare il le trial delle sette stelle di okuto cazzo le sette stelle di okuto abissa al cazzi di fedi di sconfiggi il generale shongai in un turno shongai questo qua c'è questo qua è un brattling death watch che vuol dire praticamente quando acqua death watch è un effetto che sentiva quando ogni minion muore in un random nearby space che forte questo qua destroy friendly minions around it and gain più due più due per ogni minion che forte questo qua fai un danno a tutti i minion intorno a se stesso e questo a rush questi qua hanno che ogni volta che muore un nemico fanno un danno al generale nemico e ristorano uno di salute al tuo generale minchia ragazzi che casino di effetti allora mentre riproviamo per la duecentesima volta questa cazzo di cosa e edivad vorrebbe aggiungermi la mia friendlist buongiorno forse si triggerano in maniera sbagliata no ma non è tanto quello la il fatto a me da fastidio il fatto che il campo di battaglia si riempie talmente tanto è che non puoi più mettere quelli per distruggerli lo so esatto un 6 allora io mando avanti questa qua che muore e mando a uno il generale nemico cazzo per uno non sono riuscito a ucciderlo ok allora il fatto è mando le due file laterali completamente tutto quanto avanti di due ok dopodichè mando il draghetto due due in mezzo ai due tre tre e attacco con gli uno uno che stanno più avanti di tutti quanti i tre tre ok in maniera tale che già cominciano a triggerare effetti completamente a cazzo si dopodichè il due due io lo mando praticamente a uccidere uno dei due quattro come cazzo si chiama io metterei il generale in mezzo in modo che poi hai dove mettere le cose no perché il generale non va bene ok niente scusa non è tanto quello è che il fatto adesso io in teoria metterei quello la che fa danni a tutto quanto quello che lo circonda al centro di questa cosa enorme che si è venuta a creare però ne uccide cinque e fa cinque danni e comunque si ricreano istantaneamente perché triggerano tutti quanti gli effetti dopodichè a questo punto io metterei il deep fire di Wurr subito dietro alla uno due così triggerano altri danni e questa cosa qua va a sei ok però il rush rimanente che io vado a mettere e che mando contro il generale nemico gli fa quattro danni partono i danni random perché lui muore e il generale nemico rimane a uno di vita io non capisco dove cazzo farglielo ah eccolo qua mandi avanti il generale di due e uccidi il tre uno muore un nemico ah no aspetta ok aspetta ridimmi allora com'è ok ci sei riuscita? questa brutta proprio eh eh bambina speciale bla 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 non sono facili cazzo ok distrugge il generale Vanar in un turno mamma mia allora qua ci sono un sacco di muri che se tu gli attacchi diventi stunnato più i 3-3 che sono muri e basta c'è il 2-15 che mi taunta 2-2-15 che mi tauntano scusa e questa roba qua si possono sostituire le carte? no qui dobbiamo per forza cavarcela con queste qua il tuo generale guadagna più 4 d'attacco il prossimo minion che tu summoni costa 2 di meno e ti costa e prende 2 danni te ne porta il tuo generale più avanti di 4 quindi lo mandiamo qua avanti ma non è un problema e dispella uno spazio e fai 2 danni al generale nemico in quello spazio il generale gli diamo più 4 dispelliamo uno spazio e dopo di che dato che niente ha più a provoke possiamo mettere il silhouette 3-6 no non abbiamo abbastanza mana però abbiamo la spell che ovviamente ci permette di fare questa cosa qua spostiamo in avanti il generale di 12 spazi e con il rinnovato 6-4 possiamo segare il mio questa qua è una cazzata rispetto a quello di prima no ok Vettore il terzo disconfiggi il generale in un turno 15 gold come reward eccolo qua il generale che è un 4-9 io sono un 2-7 quindi ci sono più facile switch position with any other minion fai 4 danni a tutti i minion e i generali on your starting side the battlefield and stun them quindi devi per forza muoverli no perché li dovrò far danni e allora come cazzo faccio allora muovo questo qua dopo di che devo muovere questo qua e dargli più corrente dopo di che devo sostituirmi con il 3-1 mando tutti quanti 3-1 contro il generale nemico che non so perché gli stanno facendo così poco male sono dei 3-1 in teoria buh dopo di che attacco con il generale ho un artefatto e faccio 4 danni a tutti funziona l'artefatto cosa fa? boh tanto ho vinto quindi non è un problema come hai vinto? ho vinto vetruvian 20 di cambiamento madonna questa qua la fai te eh patata che troppo troppa gente mi incasino allora ci sono due provoke ci sono questi qua che vabbè erano erano opening gambit quindi niente questo qua dovrebbe avere anti-magia perché c'ha quella specie di effetto grafico del vento la vicino questo qua il mio minion è bomb l'effetto grafico del vento è quello che si quello che ti dice bla allora distruggi un random artifact nel del generale e fai un ed evoca un 2-2 rush vicino al generale nemico questo qua dai a tutti quanti i tuoi due ervishes più 1 di attack dai a tutti quanti i friendly minion più 1 di attack e dai più 2 più 2 a tutti quanti i dervish e non scompaiono più alla fine del turno ok quindi tutti quanti questi cazzo di dervishes si inizia con l'ultima e devi mettere il davanti al generale davanti si ok e ho il 2-2 davanti al generale si esatto poi metti quello che da più un attacco a tutti ovunque perché tanto da più uno di attacco a tutti dietro tipo basta che lo metti dietro perché se lo metti in mezzo poi magari succede un casino che cazzo ne sai il 5-5 lo attacchi col generale con uno dei tuoi 3-2 ok in mezzo ci metti quello che da più 1 attacco quindi muore uno dei 3-2 vado avanti con il generale e picchio il 5-2 provoke si poi ok poi in mezzo ci metti il 2-3 che da più 1 attacco a tutti i minion vicini e adesso c'è in chilo sistematicamente tutta sta gente e soltanto alla fine dai più 1 più 1 a 1 di quelli perché sennò non c'hai lo spazio per far attaccare gli altri che ovviamente lo darò al 5-3 probabilmente si perché è l'ultimo che ci fai andare in teoria che infatti riesce ad avere abbastanza corpo brava patata brava non mi sarei liberato non avrei mai pensato che quello la simmetrico andasse contro a quello la centrale perché io di solito penso d'accordo in una maniera un poco più simmetrica e ampia allora 5 rimane l'ultima cazzo madonna stanno diventando difficilissime utilizza celerità e cronometra le tue abilità per uccidere bla è il tuo turno questo qua celerity questo qua exhausted questo qua gli si da più 3 di attacco in un turno oddio cos'è questa oddio cos'è questa è super easy questa dai e in pratica ti dice guarda che figo puoi farla attaccare 4 volte in un turno ho capito ok ok madonna santa boh direi che ci siamo meritati una sbustata che dici mamma mia che fatica ho 105 tra l'altro quindi appena giusti giusti siamo arrivati success grazie eeeh dov'è che si aprono qui ok busta merda per una volta ho trovato una busta normale quattro comunace e una rara due auto celerity questi qua dei match azor non ho capito mai come cacchio funziona elmo del match azor magari si possono una specie di megazord mutante gigantesco rust crawler cioè mangia ruggine distrugge un random artifact del generale nemico nooo è tipo il luz del come si dice il 3 2 che spacca un'arma a costo 2 mhm solo che non ha 2 2 2 2 invece che non ha 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e ancestral divination ogni volta che summoni un minion dalla tua azione in questo turno pesca una carta l'auto action bar pesca una carta ok ogni volta che evochi un minion peschi questo sarà durato un'eternità si però taglieremo tutti quanti ovviamente le volte in cui non siamo riusciti a fare perchè così sembra che l'abbiamo fatto subito in realtà tipo sono passati diverse ore fico va bene signori io vi ringrazio se che se mi avete seguito fino a qua chiedo scusa se purtroppo il commentary è stato piuttosto noioso ma dovevo pensare grazie alla signorina patata che mi ha tenuto compagnia non di niente prossima volta abbiamo finito il tutorial quindi dovremo per forza inventarci qualcos'altro ditemi di nuovo le vostre preferenze sotto a questo cacchio di video nell'area commenti e se volete premete il mi piace considerato che non l'altro è rimasto a dire da Max dei Berrofronzo adios a todos hola 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 io sono Max dei Berrofronzo benvenuti a un nuovo episodio della serie dedicata Duelist anche oggi ci fa compagnia la mia migliore amica buongiorno pronto? patata? la patata è morta dovevo fare le presentazioni ed è scomparsa ci dispiace